Sciopero di due ore in tutti gli stabilimenti del gruppo ArcelorMittal Italia. I sindacati metalmeccanici hanno voluto rivendicare chiarezza nei confronti del governo a pochi giorni dalla conclusione del negoziato che porterà lo Stato attraverso Invitalia ad entrare nel capitale della società e avviare così un piano di rilancio del gruppo. La data è quella del 30 novembre. A Roma intanto i segretari generali Benagliari, Davide e Palombella hanno tenuto una conferenza stampa trasmessa live su piattaforma e su Facebook a Taranto. I delegati attivisti di Finfiamo e Wilm hanno tenuto un incontro alla portineria della direzione Exilva. Quello che sappiamo in via ancora informale è che stanno in procinto di fare un accordo fra il governo italiano e ArcelorMittal. Noi lo riteniamo ovviamente largamente insufficiente perché vorremmo essere della partita. Che lo Stato ci metta i soldi io penso che per responsabilità che ha deve dare conto a questi lavoratori e a questa città prima di mettere soldi senza avere un piano ambientale o un piano industriale degno di questo nome. Siamo alle rassicurazioni ma noi siamo già scottati dal piano e dall'accordo non rispettato il 2018. Quindi prima di intraprendere qualsiasi tipo di discorso fra loro, se chiudono domani o dopodomani non si sa, noi vorremmo essere della partita quanto prima. Diciamo che l'accordo sembra che si concluda entro il 30 novembre relativo agli assetti societari e alla quantità di investimenti da fare. E' altrettanto evidente che manca il pezzo del piano industriale e delle rigature occupazionali ed ambientali per la città di Taranto. Quindi dal primo dicembre saremo costretti a correre per avere queste risposte che sono fondamentali per i lavoratori dello stabilimento Arcelor Mittal, per i lavoratori di Ilvenaesse e anche e soprattutto per la città di Taranto per capire qual è la prospettiva della siderurgia in Italia e quali sono le rigature ambientali appunto sui cittadini di Taranto.